Salve a tutti bentornati sul canale e come promesso questo è il nostro tutorial sul come utilizzare il ledger e nello specifico il ledger nano S plus vi facciamo vedere come si installa come si installano le applicazioni per poter ovviamente scaricare tutte le nostre coin di qualunque blockchain come si ovviamente inizializza tutto ciò che dobbiamo conoscere per poter utilizzare il nostro nano ledger in sicurezza intanto bentornati sul canale spolliciate come se non ci fossero domani perché questo tutorial nasce solo e soltanto per voi sapete che il nostro canale si occupa soprattutto per non farvi perdere soldi sui mercati piuttosto che fare tutorial ma siccome eravate ansiosi di poter averne uno nostro eccolo qui quindi vogliamo veramente un record di like una cosa che dovete stare molto attenti quando decidete di acquistare un ledger o comunque un custodial personale in questo caso un cold wallet quindi un dispositivo dove siamo noi i principali responsabili delle nostre coin se siete persone che perdono qualunque cosa che siete persone che scordano qualunque cosa siete in grandissimo pericolo di perdere anche le vostre coin perché quando adesso andremo a vedere come si inizializza il nostro ledger vedrete che ci saranno delle parole che dovete segnarvi nella giusta seguenza e non sbagliare nessuna delle parole perché sbagliate queste parole ovviamente avrete perso tutte le vostre coin se ne avrete una volta trasferite sul ledger ecco perché vi dico adesso quello che vedrete come si installa il ledger vi invito poi a fare anche un ripristino e una volta che vi siete segnati tutte le parole che saranno 24 quindi vedete 12 ma il ledger nano s plus ve ne darà 24 vi invito a fare anche un ripristino quindi a resettare vostro ledger e reinserire tutte le parole che vi darà nel primo passaggio perché in questo modo saprete se siete in grado di ripristinarlo nel caso in cui lo perdete nel caso in cui avete preso bene tutte le parole se siete capaci di fare ciò allora potete iniziare a metterci sulle vostre coin prima di se non avete fatto ciò siete ovviamente in grande pericolo quindi io direi di iniziare perché andiamo a vedere come si installa il tutto come si utilizza l'applicazione che si installa anche sul pc quindi io direi di iniziare ragazzi allora quando aprite trovate ovviamente il ledger io per fare il tutorial il tutorial l'ho preso color bitcoin ha solo due tasti come ovviamente tutti gli altri legger anche come potete notare c'è per collegarla all'usdc e ci sono un po di manuale c'è un portachiavi se volete usarlo ovviamente poi c'è una 22 foglie di istruzione che vi invito a leggere ovviamente che vi aiutano a chiarirvi meglio anche se lo andremo a vedere adesso come funziona il tutto avrete poi ovviamente anche un cavo usdc compreso e collegandolo al ledger quando si accenderà ovviamente c'è scritto ledger e vi dice welcome to un ledger nano s plus press the right button to continuous quindi premere il tasto adesso per continuare dopo di che vi dice installate il ledger live che serve l'applicazione che serve al pc per poter poi trasferire le nostre coin sul ledger e poi dopo l'andremo a vedere al pc dopo di che vi dice che per spostarvi nel menu dovete usare due tasti semplice semplice per selezionare una voce bisogna premere entrambi i tasti ok quindi è una cosa molto semplice andiamo avanti dopo di che se vi serve un help si ricomincia si stacca si ricomincia allora la voce più importante sono queste due questa qui è setup a new device oppure recovery for a new recovery phrase se ho già la sit phrase quindi 24 parole l'avevo già inizializzato mi si è azzerato il vecchio leggere lo sto reinstallando questa è la voce che selezionerò se è la prima volta che lo installo è questa la voce che selezionerò quindi siccome siamo facciamo pinta siamo alla prima andiamo dopo di che devo scegliere un pin ok pin semplice di 48 parole andiamo avanti anzi doppia e scelgo facciamo una facile 1 2 3 4 poi mi dice voglio confermare prema entrambe confermo questo pin e poi me lo richiede giustamente una conferma che quella il pin che voglio utilizzare questa non è la sit phrase che poi permette di ripristinare le le nostre conie solo un pin per il nostro leggere 2 3 4 confermo si ok come vedete è andato a buon fine ora mi dice che andiamo a vedere la la sit phrase quella che poi servirà per ripristinare eventualmente il nostro legger vi dirà assolutamente a devo premere due volte quindi delle 24 parole adesso arriveranno e dobbiamo assolutamente salvarle a dovere queste parole ragazzi non potete perderle quando usciranno poi vi dirà ovviamente di stare attente perché è l'unico modo per avere un backup di queste parole quindi ok quindi e mantenere la stessa ordine poi quando la andrete inserire andiamo avanti premo 2 e cominciano le parole qua vedrete parola 1 fino a 24 ora io ovviamente ve le faccio vedere ma questo qua lo resetterò perché solo come tutorial una volta che vi siete segnate tutte e nella stessa sequenza ragazzi lui vi richiederà di reinserirle quindi premo di nuovo entrambe confermi le 24 parole dovrete confermarle premo entrambe e qui dovete riconfermarle lui vi farà vedere quelle 24 le dovete mettere in ordine ok quindi questo adesso non lo facciamo adesso perché una volta fatto questo non dovrete fare poi nient'altro ce ne andiamo al pc infatti andiamo al pc eccoci qua di nuovo al pc ragazzi quello che dobbiamo fare adesso è installare l'applicazione sul nostro pc per interagire con il nostro leggere potete installarlo sia su windows mac o linux una volta installato si apre questa schermata che inizialmente adesso a me non lo vedete ma a voi vedrete un delle slide come si installa e leggere tutto schippate il tutto ovviamente perché esattamente quello che vi abbiamo spiegato in questa live dopo di che dovete collegare il vostro legger e vi verrà fuori questa schermata qui dove vi dirà di premere entrambi i tasti per poter accedere l'applicazione una volta premuto entrambi i tasti nella sezione my ledger qui vedrete tutto vuoto a voi io adesso ho installato qualche chain per farvi vedere come vedrete qua vedrete la cd bitcoin la cd solana ethereum la cd bsc quindi tutte queste chain le vedrete poi anche voi per installarle basta fare installa della scene che ci interessa qui sopra poi mai portfolio portfolio vedrete l'andamento del vostro portafoglio di tutte le scene che ci avrete caricato poi ci sono anche le sezioni market c'è anche la sezione account che adesso andremo a vedere discovery ci sono alcune informazioni in merito a leggere alcune applicazioni che si possono sfruttare poi come se inviare e come ricevere adesso andremo a vedere anche questa sezione la prima cosa che bisogna fare quando si vuole si vuole trasferire una coin sul nostro legger e andare ovviamente installare l'applicazione adesso qui sta andando a leggere sul nostro legger tra qualche secondo vedrete che ricomparirà la schermata di prima eccola qui dove ci sono tutte le nostre scene installate come vedete il firmware ragazzi dovete sempre aggiornare quindi poi fate anche voi questo update che probabilmente vi uscirà una volta installata una cd che basta cliccare qui e lui andrà a mettere la nuova cd qui la vedrete qui poi devo poter invece trasferire le mie coin come devo fare devo aggiungere un account sulla bsc per esempio faccio ad account e mi porta in questa sezione qui dovrò confermare sul mio legger premendo sempre entrambi i tasti una volta premuto entrambi i tasti lui mi darà la possibilità di andare a selezionare un un id un un indirizzo pubblico per poter effettivamente poi trasferire adesso vi faccio vedere che lui sta sincronizzando con il nostro legger vi dice come lo vogliamo chiamare questo nuovo account lo chiamiamo bsc sc ok dopo di che siamo pronti adesso possiamo ricevere i nostri coin cliccando qui posso sia cliccare qui su ricevi oppure sul menu principale ricevi una volta che faccio ricevi devo ovviamente mi darà un indirizzo che adesso faremo avanti lui sempre andrà a leggere il dispositivo che probabilmente adesso dovremmo ritare di nuovo la conferma e questo sarà l'indirizzo dove posso ricevere le mie coin facciamo un esempio che voglia trasferirmi è un secondo solo questo indirizzo lo devo confermare come vedete devo andare a confermare sul legger che mi dice di andarla a verificare sul legger uscirà scritto accetta o non accettare se non accettate vi faccio vedere che cosa viene fuori viene fuori questo che sul legger io ho premuto rigetto ho rigettato con l'indirizzo due manager nera un altro ok però facciamo finta che quella indirizzo era buono quindi mi voglio trasferire qualche coin che si trova sulla bsc quale posso trasferirmi secondo voi io direi la più famosa al mondo cioè quella che cambierà tutto shiba inu ovviamente è uno scherzo dove mi posso trasferire con quale cene posso trasferire cipa lo vedrete qui su quale market cap la posso trasferire sia con etres can con solana con la bsc che quella che abbiamo appena installato e anche con terra quindi andrò sul mio exchange per esempio o bayern sa qui il cibo ho comprato qualche cibo solo per farvi vedere l'esempio metterò l'indirizzo qui che mi è uscito dal mio legger quindi l'indirizzo che abbiamo visto lo incollerò qui dentro sceglierò la cena ovviamente di bsc che vi conviene sempre perché e tiro ma vi costerebbe 2 dollari 90 per shiba è anche troppo spiegato utile utilizzeremo ovviamente la bsc e poi dovrò semplicemente inviare quindi questo è come si trasferisce le coin che poi vedrete nel vostro portafoglio qui sul legger se avete necessità di ulteriori domande di ulteriori carimenti ovviamente io sono a disposizione scrivetelo nei commenti se volete ovviamente avere qualche aggiornamento in più io vi ringrazio per essere passati spolliciate per questo tutorial totalmente improvvisato per voi perché sapete benissimo che il mio lavoro non è fare tutorial qui sul canale ma bensì lavorare sul non perdere soldi vi ringrazio per essere passati qui è massimo rea trader investitore sviluppatore dal 2001